L'origano in cinese si chiama niuji, mentre il suo termine italiano in realtà è di origine greca e deriva dal greco oros, monte, e ganos, splendore, perché questa pianta orna le nostre montagne, dà splendore alle nostre montagne. In realtà l'origano, che è originario del bacino del Mediterraneo, ha molte specie differenti all'interno di questa famiglia e è una pianta che cresce spontanea nei pendi rocciosi, ben assolati, nelle alture, cresce in tutta Europa, ma in particolare nel sud, nel nostro meridione, raggiunge il massimo della sua intensità aromatica. È una spezia che era conosciuta dagli egizi, dai greci, dai romani, ci sono delle ricette di apicio e marziale che sono arrivate fino a noi in cui viene utilizzata. Era una parte essenziale del garum. Il garum era una salsa che veniva usata come condimento che veniva ottenuta facendo macerare nel sale dell'interiora dello scarto di alcuni pesci con l'aggiunta di molte erbe aromatiche, tra cui appunto l'origano. Catone lo riteneva utile per trattare disturbi vescicali e disturbi di stomaco, mentre Plinio il Vecchio la cita come rimedio per trattare i morsi di ragni e di scorpioni. Era una spezia che viene utilizzata anche per purificare l'aria, facendola bruciare in appositi bracieri insieme con menta e timo. L'uso dell'origano si è sempre mantenuto soprattutto nel sud dell'Italia e quest'uso è diventato molto importante dopo che si è diffusa la pizza, nella quale l'origano è una delle spezie fondamentali. Dal punto di vista della tradizione medica cinese, l'origano ha natura fresca, sapore piccante, un po' amaro e dolce e si rivolge a stomaco, polmone e fegato. È molto interessante il fatto che abbia natura fresca. Questo significa che l'aggiunta di origano ad un piatto conferisce effetto rinfrescante e questo è particolarmente utile perché la stragrande maggioranza delle nostre erbe aromatiche sono invece di natura tiepida o calda. Le spezie poi sono praticamente tutte riscaldanti. Il rosmarino è di natura tiepida, la salvia è di natura tiepida, il basilico è di natura tiepida, il timo, il dragoncello dunque solo l'origano insieme con maggiorana e menta ha un effetto rinfrescante che può essere utilizzato in cucina. Per quanto riguarda le azioni, l'origano è considerato un diaforetico e dal momento che ha natura fresca combatte il vento e il calore, combatte l'attacco esterno del vento e del calore. Inoltre questa spezia ha la caratteristica di armonizzare lo stomaco e di mobilizzare il C, l'energia di stomaco. Questo facilita il naturale movimento di discesa che lo stomaco deve promuovere sostenendo il processo digestivo e ovviamente tratta nausea, rigurgiti e ovviamente anche il vomito che sono la cosiddetta energia controcorrente di stomaco, il Cini di stomaco. Possiede inoltre l'azione di asciugare l'umidità e dunque è utile quando c'è una combinazione di calore e umidità e d'altra parte è espita anche un effetto antiparassitario a livello intestinale. Quando si può utilizzare? Se c'è un attacco esterno di vento calore con mal di gola, dolore faringeo, tosse secca, febbre oppure tosse con mucogiallastro si può utilizzare l'origano per ottenere un effetto diaforetico e attraverso la sudorazione spellere il calore esterno. Gobi gastrici che si manifestano con Cini di stomaco, dunque nausea, distensione, dispepsia, eruttazione, rigurgiti e poi nella digestione lenta e laboriosa. Si può utilizzare per mobilizzare i liquidi quando c'è una loro ritenzione, si può utilizzare nella neocorrea, nelle perdite giallastre da umidità a calore, nella parassitosi intestinale. Anche dal punto di vista degli studi biomedici si è visto che l'origano ha molte proprietà, ha proprietà sedative, analgesiche, antalgiche, emmenagoghe, antispastiche, parassicida e poi febbifughe, antisettiche, battericide, viricide. Tra i suoi costituenti risultano il timolo, il carbacrolo, i sali minerali e il energetico è pari a 15 calorie per ogni 100 grammi. Video di medicina dall'Italia alla Cina A cura del dottor Lucio Sotte visita il sito internet www.luciosotte.it per informazioni su Agopuntura, medicina cinese, medicina integrata.